In Casa Arancione si torna a lavorare in vista della trasferta a Livorno. Si giocherà domenica alle ore 20 e 30. Nella prova casalinga contro il Propiacenza ancora buoni segnali per mister indiani, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento della squadra che ha saputo reagire all'errore del rigore sbagliato e allo svantaggio iniziale, riuscendo a pareggiare i conti. Fra i migliori in campo, Zaccaria Mlili. Il centrocampista per questo si è guadagnato il premio dello sponsor CSG Sinti, la nuova iniziativa di questa stagione che prevede la nomina da parte di un partner della società del miglior giocatore della Pistoiese nel match della domenica. Una settimana iniziata anche con un occhio al vivaio arancione, con la conferenza stampa del direttore generale Marco Ferrari e del direttore sportivo del settore giovanile Andrea Innocenti. Progetti, ambizioni e già qualche soddisfazione per alcune categorie. Andrea Innocenti è sicuramente un profilo molto importante per quel che riguarda il settore giovanile delle squadre professionistiche, quindi è la prima esperienza in Serie C, ha sempre fatto la Serie B e la Serie A e quindi credo che sia una sfida importante per lui e diciamo un orgoglio e anche un grande passo in avanti per la Pistoiese per progettare il futuro partendo dai giovani. Dopo tre anni di Serie C in cui la Pistoiese si è consolidata, si è organizzata, credo appunto che dovesse fare di tutto per rispettare quella che secondo me è la mission delle squadre di Serie C, ovvero quello di valorizzare i giovani e possibilmente i propri giovani. E quindi per far questo bisogna partire dal settore giovanile, spesso dobbiamo partire anche dai più piccoli e quindi insomma per poi ottenere risultati nel medio e lungo termine. La scelta è una sfida dove secondo me ci sono le basi per costruire qualcosa nel tempo, non nell'immediato, e quindi una scelta fatta serenamente grazie alla proprietà, contattato direttamente dalla proprietà e quindi c'è stata subito sintonia, quindi sinergia di intenti e quindi scelta che rifarei senza problemi. Come sta andando? Vabbè i campionati iniziati da poco per quello che possono fare il testo, è stata un'estate di costruzione dei gruppi, di scelta dello staff tecnico non semplicissima, ma a oggi dico che mi sento soddisfatto tutto lì. Quale sarà il suo modo di lavorare? Sul campo, tanto, non sul campo d'allenatore perché non è il mio compito, però di stare vicino a tecnici, di stare vicino a ragazzi, il modo di lavorare deve essere tra virgolette aggressivo perché dobbiamo anticipare gli altri, la concorrenza in Toscana è alta e dobbiamo costruire giocatori che è l'obiettivo principale di questo progetto. A oggi vorrei che il prossimo anno fossimo qui a parlare di due ragazzi che escono dal settore giovanile e sono prima squadra, sarebbe già un obiettivo molto importante.